È uno dei luoghi più letali del pianeta. Ogni virus conosciuto si trova qui. Avrà una sensazione di claustrofobia. Chi va nel panico, urla. National Geographic presenta... Deve essere sincero con me. Pensa di farcela? La storia del virus più pericoloso. Jax, voglio che dia un'occhiata a una cosa. Che stiamo cercando? Ebola Zaire. Dalla foresta pluviale africana... Non è mai stata riscontrata nel nostro paese. C'è una prima volta per tutti. Fino al suo arrivo in territorio americano... Ho un marito, due figli. Abbiamo il dovere di proteggerli. Tu lotti sempre duramente. Toglio, toglio, toglio! Oh, mio Dio. Una miniserie in sei episodi, record di ascolti. Mi stai facendo spaventare, Nancy. Devo tornare lì dentro. C'è il rischio che si tratti di Ebola. Ispirata a fatti... Potrebbe già essersi diffusa un'epidemia. Realmente accaduti. Cosa hai fatto? E che potrebbero accadere... Ancora. Ma idea del panico che scatenerebbe. Non esiste cura. Né vaccino. Il tasso di mortalità... È del 90%. È qui. E lo hai portato in casa nostra. Suspense pura. Si diffonde attraverso i fluidi corposi. Tensione a fior di pelle. Quando mostriamo affetto. Un thriller avvincente. Stai imparando. Si è evoluto. E spazzerà via tutti noi se non lo fermiamo. Liam Cunningham. Ci farai ammazzare tutti. Julianna Marconis. Voglio tenere la mia famiglia al sicuro. Non coprirò quello che hai fatto. The Hot Zone. Area di contagio. Da mercoledì 4 settembre alle 20.55. Su National Geographic. La mia famiglia al sicuro è la mia famiglia al sicuro.